Vigile Fuoco? Sì, signor Berticca, che è successo? A Maratea, dove? Perfetto, chiama la storia di Lauria, ci sono due persone che ho parempi in Dio in mare per un soccorso a mare. Attenzione, deve uscire la prima partenza per soccorso a persona, escursionisti dispersi in porto di Maratea. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.